Siamo con Roberta Bertacco, titolare di CEA, che quest'anno si presenta dichiarando la sua passione per l'acciaio inossidabile. In effetti il nostro impegno, la nostra dedizione non soltanto a questo materiale ma in particolare al mondo del design e della rubinetteria moderna è ancora testimonial di buon gusto e di attaccamento a quello che vuole essere per noi non soltanto un lavoro come fonte di reddito ma soprattutto una passione per quello che noi facciamo e per quello in cui crediamo. L'acciaio inossidabile è un materiale che denota caratteristiche di resistenza nel tempo e di durevolezza, igienicità e tutte cose che effettivamente riguardano il nostro quotidiano e valorizzano i nostri gesti quotidiani. CEA si ripropone anche in questo Cersai, in questa edizione importante del 2013, come testimonia l'importante di cultura di prodotto, di innovazione tecnologica e di attaccamento per cui i valori che sono importanti nel nostro quotidiano che è la sostenibilità, il risparmio energetico, l'attenzione al non inquinare e quindi al basso impatto alimentare della produzione, una produzione che è a chilometro zero, tutta inserita all'interno del distretto di Bassano del Grappa. Siete un'azienda che in un momento in cui forse tutti fanno un po' tutto ha un'identità molto chiara. In effetti noi ci allontaniamo molto dalla logica dei tuttologi che si improvvisano a fare cose che in realtà non producono. Noi crediamo molto nella specializzazione del prodotto, quindi nell'identità che un'azienda si costruisce nel tempo grazie al proprio know-how, grazie alla propria capacità di immetterci sul mercato con delle sicurezze che sono date anche da delle consapevolezze e delle conoscenze di prodotto. C'è design in questo, crediamo essere un'azienda molto coerente, in questi anni ha dato prova, ha dimostrato quindi di essere in grado di realizzare un prodotto che dà delle sicurezze anche ai consumatori finali. Quindi il consumatore finale sposa anche un brand, sposa anche un'azienda perché si sente accompagnato da questa azienda. Quindi crede molto nel fatto che ciò che acquista è assolutamente fatto dall'azienda che lo vende. Questa è una cosa molto importante che dà delle garanzie al consumatore finale e dà un'identità chiara all'azienda.